Salve a tutti, sono Mattia per le amiche più intime Matioski e sono qui quest'oggi per guardare e commentare assieme a voi il primo trailer di Captain Marvel. Come ormai tradizione dei Marvel Studios c'è grande attesa per questo film, nonostante il personaggio sia pressoché sconosciuto per il grande pubblico. Sarà interessante scoprire proprio come riusciranno a renderla accattivante e soprattutto capire se saranno in grado di contestualizzarla all'interno di un universo già formato da un decennio. Sappiamo che il film sarà prevalentemente ambientato negli anni 90, sappiamo che Captain Marvel sarà un personaggio importante in Avengers 4 e spetta proprio a questa pellicola unire i puntini. Sperando che il tutto venga fatto in modo coerente perché ultimamente la continuity sta un po' sfuggendo di mano in casa Marvel. Comunque le immagini fin qui rilasciate mi hanno convinto, mi piace il costume, mi piacciono gli scroll belli pupazzosi old school. Quindi è con grande ottimismo che mi accingo a vedere questo trailer. Bene, 3, 2, 1... Via! 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 Capod influences Capod mult отделi War è una lingua universale. I so a renegade soldier a vedere quando c'è una. Never occurred to me that one might come from above. Space invasion. Big car chase. Truth be told, I was ready to hang it up until I met you today. So, you're not from around here. It's hard to explain. I keep having these memories. I see flashes. I think I had a life here. But I can't tell if it's real. We have no idea what threats are out there. We can't do this alone. We need you. I'm not what you think I am. You're not going to do this alone. You're not going to do it. crestato di Capitan Marvel. Bene, 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 bene. Per quanto mi riguarda trailer perfetto, se l'intenzione era quella di ingolosirci senza però rivelare troppi dettagli della trama, direi che ci sono riusciti alla perfezione. Ovviamente i prossimi trailer entreranno più nel dettaglio, ma dovrebbero essere tutti così per soddisfare il mio gusto, incuriosire senza anticipare troppo e a tal proposito l'aspetto che mi ha incuriosito di più è l'inizio. In Medias Res l'avevano detto questo non sarà un film di origini, o meglio, non sarà un film di origini tradizionale. Carol Danvers è già una guerriera Cree da tempo, si ricorda di essere stata terrestre ma non riesce a mettere insieme i pezzi del suo passato, un passato che quindi presumibilmente ci verrà raccontato lentamente e questa componente misteri mi intriga, devo dire. Si respira un'aria da film sci-fi cospirazionista, un'atmosfera molto appropriata vista la minaccia rappresentata dagli Skrull e nasce già spontanea una domanda. La vecchietta che si prende un pugno da Capitan Marvel è uno Skrull oppure è davvero una vecchietta e Carol dovrà pagare i funerali alla famiglia? Staremo a vedere, nel frattempo mi dichiaro molto soddisfatto da questo primo appetizer. Mai ho finito di blatterare e adesso tocca a voi, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questo primo trailer di Capitan Marvel. Se questa mia reaction vi è piaciuta mettete un bel mi piace e condividetela sui social. Ovviamente potete anche seguirmi su tutte le pagine social, link in descrizione alle pagine Facebook, Twitter e Instagram. Potete anche iscrivervi al canale Telegram oppure al gruppo di Facebook Le Amiche Intime di Matioschi per non perdervi neppure un video del sottoscritto. Inoltre se volete comprare una bella magliettazza nerd potete farlo sul sito di Pampling, link in descrizione. lì inserendo in fase d'acquisto il mio codice personalizzato Intima8 potrete accaparrarvi tutti gli articoli del sito con il 15% di sconto, comprese le caramelle che sono buone. Detto questo vi rimando ai prossimi video del canale, ai prossimi contenuti. Molto presto arriverà un aggiornamento tecnico, audio e video e mi congedo da voi con un Capitan Marvelesco. Non, non, non. Buongiorno a tutti.